Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Sichino vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Gli uomini restano tali anche di fronte a un evento straordinario come la risurrezione di Cristo. Ci vuole l'acume del discepolo che Gesù amava, Giovanni, per ridestare in Pietro quelle parole pronunciate da Gesù e farne parole di vita nuova. Devono comunque vedere Pietro e Giovanni per poter credere, ma alla fine credono, e allora la scrittura si fa chiara e comprensibile. Appena chinati nel sepolcro, entrambi scorgono i teli posati là. Pietro però, entrando dentro il sepolcro, nota anche il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Così, mentre possiamo immaginare i teli, le lenzuola, come simbolo della vita, dell'esistenza vissuta in pienezza, il sudario si fa per noi simbolo di morte, oramai lontano, avvolto e piegato, come se tutto fosse compiuto. E tutto lo è davvero. Ecco, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove.